specifiche, ribadisco il principio di prima, cioè la necessità di avere più del 50%. Ascolteremo le proposte che il collega e amico Bruno Le Maire farà, ribadiamo il fatto che non si capisce da parte italiana perché nel caso di STX la Fincantieri non debba detenere almeno più del 50% visto che i coreani avevano a suo tempo due terzi della proprietà e questo era quanto era stato stabilito nell'accordo con il precedente governo francese. Io non metto in discussione ovviamente il diritto del governo francese di avere la prospettiva di protezione degli interessi francesi, la stessa cosa vale per il governo italiano, detto questo insieme credo che possiamo promuovere interessi europei.